Eccoci qua, ci siamo trovati nel punto più alto di Budapest, a Buda, di qua se potete ammirare il Danubio e Pest E mentre invece... che abbiamo qua? Cosa sta bevendo lei signore? Buongiorno, bevo brasilena Anche qua in Ungheria l'ha portata? Sì, l'ho portata anche qui perché non posso stare senza brasilena Brasilena? Niente più problema